Cristo è risorto. Risuonano ancora con vigore, nel lunedì dell'Angelo, le parole che hanno cambiato la storia dell'uomo. E Papa Francesco, prima della recita del Regine Celi, ha invitato tutti a diffondere questo annuncio di salvezza, soprattutto con la testimonianza. La lieta notizia della risurrezione, infatti, dovrebbe trasparire sul nostro volto, nei nostri sentimenti e atteggiamenti, nel modo in cui trattiamo gli altri. La Pasqua, ha insistito il Pontefice, è l'evento che ha portato la novità radicale per ogni essere umano, per la storia e per il mondo. È il trionfo della vita sulla morte, è festa di risveglio e di rigenerazione. Lasciamo che la nostra esistenza sia conquistata e trasformata dalla risurrezione. Dopo la preghiera, Papa Bergoglio ha salutato la delegazione del Movimento Shalom, arrivata all'ultima tappa della staffetta solidale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle persecuzioni dei cristiani nel mondo. Esiliati, uccisi, decapitati, solo per la loro fede. Loro sono i nostri martiri di oggi e sono tanti. Possiamo dire che siano più numerosi che nei primi secoli. Auspico che la comunità internazionale non assista muta e inerte di fronte a tale inaccettabile crimine, che costituisce una preoccupante deriva dei diritti umani più elementari. Auspico veramente che la comunità internazionale non si rivolga allo sguardo da un'altra parte. Grazie. 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 Grazie.